Beccato dai responsabili di un supermercato mentre rubava della merce, hanno chiesto l'intervento degli agenti della squadra volanti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno cercato di riportare il soggetto, 34enne nigeriano con precedenti per reati contro il patrimonio, alla calma. Ma l'uomo ha iniziato a inveire nei loro confronti, diventando sempre più violento ed aggressivo, al punto che nel tentativo di divincolarsi ha colpito ripetutamente al volto uno dei due agenti, provocandogli contusioni. Una volta fermato, l'uomo è stato arrestato per violenza e resistenza pubblico ufficiale, in attesa dell'udienza di convalida. In considerazione di quanto accertato, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha dato disposizione all'ufficio immigrazione di avviare l'iter, in parallelo con quello giudiziario finalizzato all'espulsione del pregiudicato straniero dal territorio nazionale.